Tiene ragione, perché ha mangiato le storie, non ci stai chiedendo per il tavolino, perché è occupato, ma tutto quello che vuoi, però non rispetto l'orario. Fasco! Che è? Madonna! Aspì! 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 Venge! Fasco! Madonna me! Non è che mi devi avvisare l'ultimo istante, che non ci stanno più dall'uffetto, va bene che è bebe, è bebe! E però, senza un po'... Ehi, sì, 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 firmato, firmato! Salutate le cristiane! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Allora, una nuova ambientazione di questa settimana. Questa settimana che andiamo a presentare... è bella quella compagnia, mi piace perché sono ragazzi, sì, ragazzi, sono cristiane a Carbata, beh, sono di Ferrandina, Sipario Aragonese, che presenterà una commedia di Salem che a me, onestamente, e mi ha una commissione di Sicilia... Vono sono bravi, quindi ci sarà sicuramente un connubio perfetto. Ah... antica pasticceria! È antica! È antica! Ah! 22 e 23 di novembre, sabato 22 si pario alle ore 21, domenica 23 si pario alle ore 19. Sono due volte, due volte, c'è un quiquo qua con lo lato, paperina, paperina. Allora, ripetiamo, sabato 22 e domenica 23 si pario alle ore 21 e domenica si pario alle 19 ho una compagnia di Ferrandini che è la fine del mondo che si chiama Si Pario Anaconesse che porterà una commedia di Salemme bellissima che si chiama, io mi scuso, la mia pasticcia. Vabbè premiata pasticceria, bella vista. Facciamo vedere che io non sono accorto, mi ricordo molto. Stupenda pasticceria. Premiata pasticceria. No, vediamo la settimana prossima, facciamo la fa, facciamo la panna della settimana prossima. Si, si, non la panna qua. No, 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 no. C'è una panna qua? C'è una panna qua, facciamo la panna qua, vabbè? Si, facciamo il pepe, facciamo la panna qua. A disposizione. Saluta. Saluta. Ciao ciao! Saluta. Oh, I'm so in the mood, you should play me what's good We can do it all night, be my spot in the light